Come si è svolta il 30 dicembre? Siamo andati in profondità grazie alla sinergicazione con la Procura della Repubblica di Catanzaro e siamo riusciti ad arrivare a individuare tutta l'organizzazione, disarticolandola completamente. Un'organizzazione che riusciva a fare degli enormi guadagni e ad evadere sia l'IVA che l'ACCISA su questi prodotti in modo notevole. In un solo anno, come si è detto, circa 2 milioni di euro di evasione in un solo anno. Stiamo parlando in sostanza di oli minerali destinati all'agricoltura, quindi con fini agevolati e quindi con prezzi agevolati, con imposte agevolate, che invece venivano esitati sul mercato creando a sleale concorrenza con gli altri operatori corretti come gasolio per autotrazione. Perché il gasolio chimicamente è lo stesso, è solo che dal punto di vista per agevolare certi contesti viene data giustamente una agevolazione, che però deve andare in quel contesto per il quale è indirizzato, cioè quello agricolo. In questo caso non avveniva così.